Allora ci sono i pagliacci che si fanno vedere a Dubai a bordo di Lamborghini noleggiate con le film intorno poi ci sono artisti soprattutto nel mondo rap che invece hanno l'outfit incredibile perché prendono 10k a vento a serata e allora non sanno come usarli questi soldi e li sputa in scarpe o scene tra l'altro poi ci sono personaggi televisivi, influencer, attori, di tutto e di più no? Però c'è tutto questo ostentare, questo far vedere la propria ricchezza ora chi ostenta ricchezza è un poveraccio e lo sarà per sempre qualunque cifra avrà in tasca, qualsiasi quantità di soldi possa accumulare o guadagnare rimane un poveraccio è questo che secondo me le nuove generazioni dovrebbero un po' capire non puntare ad arrivare ad essere come quelli perché rimarrete dei poveracci qualsiasi cifra guadagnerete una persona di valore non ha bisogno di mostrare la propria ricchezza e soprattutto il proprio valore perché il valore va al di là dei soldi, dell'economia e di queste robe qua avete capito?